Pre-GP F1 2019 Pre-GP F1 2019 Pre-GP F1 2019 Pre-GP F1 2019 molto bene la macchina si è dimostrata molto ben bilanciata sul circuito di Catalunia quindi sicuramente difficile perché è un circuito molto di aerodinamica. Paolo oggi si sono messi a tirare hanno chiuso diciamo le danze con dei giri abbastanza veloci sono arrivati a sfiorare il record della pole position dell'anno scorso 1.16 221 per Vettel Hamilton 1.16 224 la prestazione delle due vetture è praticamente identica ce l'aspettavamo perché poi il livello ormai dei due team è analogo anche se poi l'impressione che abbiamo avuto già dal primo giorno è che questa Ferrari sia nata innanzitutto sotto una buona stella ma soprattutto anche a vederla sembra una macchina decisamente moderna da un punto di vista concettuale non è una semplice evoluzione del modello precedente come aveva detto Binotto durante la conferenza stampa proprio a vederla anche come bilanciamento estetico dei volumi della vettura si capisce come ci sia stato un grande lavoro a Maranello per affilare quest'arma per finalmente speriamo vincere il mondiale beh l'anno scorso c'erano dei punti forti su questa macchina e quest'anno li hanno semplicemente migliorati e hanno limato quelli che erano un pochino i difetti una macchina che appena messa in pista è andata subito bene ha percorso tantissimi chilometri quindi anche l'affidabilità col passo gara ha dimostrato di esserci secondo me l'unica incognita riguarda lo sviluppo per una ragione molto semplice perché quando hai una base buona ed è già un'evoluzione della macchina dell'anno scorso bisogna capire se per migliorarla riesci a stare dentro i parametri che ti eri prefissato oppure se vai a rovinare qualche equilibrio qualcosa un esempio come dice diretta la cartina al turla sole qual è la mercedes perché i primi test i primi quattro giorni si è presentato con una macchina la seconda parte di test si è presentata con una macchina completamente diversa non è che in cinque giorni hanno modificato era già previsto a tavolino quindi la mercedes ha dimostrato di avere già un'idea di dove potrebbe andare lo sviluppo di questa macchina e hanno fatto subito un confronto comparativo tra i due pacchetti farà invece quella era e quella è rimasta e quindi il dubbio è il punto di domanda riusciranno a migliorare questa vettura durante la stagione o è ottima ma è plafonata beh questo quello scopriremo strada facendo scusa paolo prima di andare da diletta non è possibile che mercedes abbia reagito al fatto di aver visto soprattutto nei primi quattro giorni test quindi la prima parte di questa sessione è invernale abbia reagito velocemente a una idea di dominio della ferrari quindi preparando velocemente dei pezzi è vero che ci vuole un mese a preparare la ferbina di carbonio ci vuole del tempo non è che lo fai in cinque minuti però magari hanno tirato fuori delle cose che avrebbero tirato fuori più avanti se solo solo si fossero trovati un pochino meglio come tempi sul giro ma soprattutto come costanza diciamo che il fatto che abbiano fatto un tipo di lavoro con determinati pezzi portati in due sessioni a distanza di cinque giorni uno dall'altro dimostra che l'avevano già programmato a monte quindi non c'è assolutamente nessun timore nei confronti della ferrari ma proseguono col loro tipo di lavoro e ti dirò di più da quello che si è visto questi qui si presenteranno in australia con qualcos'altro ancora di diverso come farà anche la ferrari come farà anche red bull si anche a me ha dato la sensazione che le vetture che abbiamo visto non fossero ancora definitive in tutto hanno giocato a nascondersi praticamente sino ad oggi è vero il 16 l'avevano già tirato fuori ma oggi sicuramente tutti si sono messi a tirare un po di più anche per capire quali sono effettivamente poi gli equilibri della che si possono trovare anche alla prima corsa di letta leclerc come andato questa era una delle curiosità poi di questi test perché la prima volta che sale sulla rossa anzi non è proprio la primissima però insomma diciamo da pilota ufficiale è andato molto bene e ha fatto il suo lavoro in pista tranquillamente senza senza nessun intoppo per cui si dimostra ancora una volta un pilota con una maturità che va al di là dei suoi anni poi è chiaro che una volta arrivati in pista in un weekend di gara effettivo poi la pressione sarà ben diversa però comunque è un inizio sicuramente promettente dal punto di vista della del passo che ha mostrato sia diciamo sul giro secco che poi anche in nelle simulazioni di gara. Timori reverenziali con Vettel secondo te? Non credo mi sembra che per ora vadano abbastanza d'accordo almeno sulla carta e da quanto dicono nelle dichiarazioni si parlano eccetera eccetera e non credo sinceramente non penso che abbia tutti questi 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 timori nei confronti di Vettel però posso sbagliarmi non lo so una sensazione che ho io. Secondo te Paolo? No al momento non ci sono problemi stanno lavorando insieme uno per capire la macchina all'altro per farla progredire quindi in questa fase non ci sono assolutamente problemi. E Vettel col team nuovo come si trova? Si trova abbastanza bene per cui interagisce. Hanno cambiato i meccanici hanno invertito le squadre in modo tale da dare anche degli stimoli a Vettel poi tra Leclerc e Vettel si sono fatti anche dei favori personali che qua non vi sveliamo ma di cui siamo conosciuti. Svelacene a meno uno? No assolutamente non posso ho dato la mia parola di non dire niente perché poi dicono che sono cattivo che sono antiferrarista non è vero assolutamente. Sono un tifoso della rossa per cui mi tengo per me certe cose. Va bene. Senti invece per quanto riguarda gli altri diciamo ridebuttanti vedo Chiat su Toro Rosso 1.168.98 ha iniziato a andare dopo un anno fermo. Cos'è stato fermo? Un anno vero di Letta? Un anno e mezzo più o meno. Un anno e mezzo fermo oggi con la Toro Rosso ha fatto 1.168.98 quindi anche un bel tempo sta nel secondo con con i migliori direi che ormai diciamo ha ripreso in mano il volante è sicuramente un ottimo pilota aveva vinto anche delle gare un pilota comunque interessante aveva un po ceduto da un punto di vista psicologico soprattutto nell'ultima stagione ma è stato anche in orbita Ferrari anzi ha fatto il simulatore della Ferrari oggi è ritornato come pilota ufficiale per il team Toro Rosso come l'hai visto? Sicuramente le sue prestazioni sono positive non sono convinta che la Toro Rosso sia così competitiva diciamo che poi questi tempi che vediamo possono essere falsati da alcune variabili che noi non possiamo sapere ad esempio l'icarburante a bordo per farla molto semplicemente come variabile più semplice da individuare però sicuramente lui come pilota avrà una motivazione a ben figurare visto che comunque torna come figlio al prodigo dopo una separazione che non era stata così facile ecco ai tempi tanto meno indolore però l'esempio se permette e Verstappen che oggi ha chiuso all'undicesimo posto è staccato di un secondo da Chiat quindi calcolando che il motore la disperata è lo stesso è impossibile che tra Verstappen e Chiat ci sia un secondo di differenza perché credo che almeno che Adrian Newell non ha essere toppato completamente la macchina ma lo escludi di mescola perché se guardi bene Stappen ha colto il suo tempo con la C3 che è quella intermedia mentre invece Chiat con la C5 quindi già quello insomma c'è loro con tutti questi cambiamenti prima di andare a approfondire altri temi vorrei finire la lista di chi dei debuttanti sostanzialmente Formula 1 Kubica è un po' in difficoltà qui non si capisce se sia in difficoltà lui però qualche dubbio che sia in difficoltà lui perché comunque è un pilota veramente coriaceo ed è velocissimo invece proprio con la Williams sono staccatissimi e la vettura è proprio vecchia da un punto di vista concettuale una macchina che secondo me farà veramente fatica anche questa stagione Paolo come l'hai vista tu? L'ho vista male nel senso che hanno dato una riverniciata hanno cambiato degli sponsor ma non è che la macchina si sia evoluta più di tanto anche perché per far evolvere una macchina del genere ci vogliono dei soldi e in questo momento col curatore fallimentare con degli sponsor che hanno pagato altri che non hanno pagato tutta una situazione economica abbastanza complicata la Williams ha degli altri problemi immediati rispetto a quello di sviluppare la macchina Stroll sulla Sport Pesa Racing Point sulla che? Sport Pesa Racing Point si chiama così il team Sport Pesa Racing Point si chiama così la Fuforsi India come è andato? Come l'hai visto Stroll? Bene carne e pesce mediamente bene a livello di macchina a livello ma anche qui mi sembra più o meno la stessa dell'anno scorso direi che tutto sommato è lì anche se poi Perez con le C5 C5 che non è la Citroen è la mescola della gomma Ciloro e ripeto Ciloro diciamo con la più morbida ha segnato un 17,7 che non è per niente positivo e bisogna però sempre vedere con quanta benzina a bordo però anche o meno rispetto alla Williams non hanno saltato giorni di test perché la Williams ne ha saltati due minuti Siamo abituati sempre a vedere una Fursi India una Racing Point sempre in grado di essere veloce anche magari con soluzioni abbastanza innovative la vettura di quest'anno invece mi è sembrata anche lei Conservativa Un po' conservativa vero? Forse tra tutte le vetture è stata una di quelle che è meno stupefacente in termini di innovazioni nel cambio regolamentare Anche lì è cambiata la proprietà c'era il vecchio VJ Malia che era il proprietario della Fursi India che ha lasciato in giro un po' di debiti per cui c'è tutta una situazione economica da dover sistemare Se pensate che i top team come Ferrari e Mercedes per adeguare la macchina al regolamento nuovo di quest'anno hanno speso 15 milioni di euro e calcolate che quelli 15 milioni di euro già non li avevano l'anno scorso avete già capito che cosa succede Sicuramente anche questo problema, questo cambio di proprietà a metà stagione dell'anno scorso sicuramente ha influito negativamente sullo sviluppo della macchina di quest'anno Chiarissimo anche perché non avevano la programmazione sull'anno successivo per cui non sapevano nemmeno se esistevano poi però comunque di fatto a vederla così anche nei test io l'ho vista solamente il lunedì quindi era il primo giorno che girava la macchina però insomma non ho visto una macchina veramente brillante come a dire la verità non mi aveva stupito Vabbè la Williams ovviamente era ferma, non mi ha molto stupito la Haas, ci sono alcune macchine che non mi hanno molto stupito almeno a vederle così chiaramente poi bisogna sempre vederle girare, bisogna sempre aspettare che i piloti definiscano gli assetti, gli ingegneri definiscano ovviamente tutti i pezzi Dimmi diretta Vago potenziale all'interno diciamo delle scuderie di metà classifica, c'è stato qualche problema di affidabilità però io non li scarterei a priori Però non ho visto una macchina così, almeno a vederla così ma ti ripeto le ho viste tutte molto velocemente per cui aspetto di vedere la prima gara perché poi in realtà Paolo da questi test si fa sempre fatica a capire realmente gli equilibri mi sembra che una volta negli anni 90, 80-90 si riuscisse a capire un po' meglio nel corso dei test quali erano le macchine che andavano o non andavano Anche adesso si capisce che i macchini non vanno Non si giocava così tanto a nascondino come adesso Direi che è abbastanza normale, l'unica cosa è che noi prendiamo per buoni dei tempi segnati sul traguardo però ogni team, ogni squadra ha un traguardo diverso ovvero prende un punto di riferimento del tracciato Però questo è il crometraggio ufficiale Questo è il crometraggio ufficiale per cui bene o male Loro riescono a farsi i loro confronti tra di loro Si fanno i confronti, quindi per esempio c'è qualcuno che può essere andato piano ad esempio mettiamo un Verstappen o un Raikkonen Ma non è detto che sia passato sul traguardo in piena velocità oppure magari se il punto di riferimento era 200 metri prima Quindi i tempi veri sul giro li hanno loro Qui abbiamo un'idea di massima di che cosa può venire fuori Insomma Mercedes a livello di Ferrari in queste condizioni Mercedes a livello di Ferrari tra l'altro Paolo tu sei stato in Petronas la settimana scorsa Hai incontrato Hamilton, hai incontrato Bottas, hai incontrato gli ingegneri della Petronas Sono abbastanza tranquilli, Hamilton ha detto che lui non è mai soddisfatto del tipo di lavoro che fa perché vuole sempre avere il massimo per ogni vettura, per ogni sviluppo per quanto riguarda il motore, l'aerodinamica per cui non se la sente di dire sono contento, sono soddisfatto per cui dice la parte che mi porta ad ottenere il massimo in tutti i settori poi è chiaro, quando saremo in pista tutti quanti assieme, lì cominceremo un pochino a farci un'idea per cui dire se sono contento o no, in questo momento non sono contento perché voglio il massimo da ogni singolo componente della macchina Chiarissimo, lui è proprio anche, come dire, trova grande motivazione nelle corse siccome è quella la sua forza Sì, tra l'altro gli ho fatto la domanda su Rosco, visto che tu ci tieni Gli hai chiesto? Ha detto che mette in macchina lui le prime 4-5 gare No, però sta, tra l'altro abbiamo l'intervista, poi ve la gireremo, ve la faremo sentire tra l'altro è divertentissima perché non ha il pianoforte però ha scaricato un programma sull'iPad che simula la pianola, il pianoforte e praticamente durante l'inverno e roba del genere si è messo a suonare con questo iPad col cane che gli andava dietro e dice che il cane ha migliorato molto ha il Rosco in questo momento e gli fa l'accompagnamento e tra l'altro lui ha postato anche un praticamente Bohemian Rhapsody dei Queen, ha fatto un po' di errori al piano però insomma dice devo migliorare però prima o dopo ce la faccio Bravo, vedi, comunque ovviamente è anche una persona intelligente di fatto se sei sempre così ad alto livello non c'è solo manico ma c'è anche ovviamente intelligenza No, ma poi ti dirò di più, gli ho fatto i complimenti per il fatto che si è dato da fare effettivamente è andato su una spiaggia a togliere le bottiglie di plastica a pulire l'ambiente, poi c'è questa svolta vegana di rispetto della vita degli animali Si è diventato vegano? Si è diventato vegano rispetto degli animali Ma c'è solo questo problemino del jet privato che oggettivamente inquina un attimino però questo va tutto per gradi quindi sicuramente è apprezzabile che abbia fatto questa cosa della plastica Non c'è anche i gran premi con le caravelle se la mettiamo su questo tono Oppure, no, devo dire che lui gli ho detto Guarda, mi è piaciuto molto quando ti ho visto e lui si è girato e fa davvero? Pensi che il mio messaggio positivo è venuto fuori? No, gli ho detto, si è stato bello vedere un campione come te che fa queste cose e dice no ma fa, è il problema che fa, a me è venuto spontaneo farlo quindi è una cosa naturale però dice oggi è facile essere fraintesi per queste cose qua Vedere Hamilton fare una cosa del genere può spingere le persone a un uso più così ragionato della plastica Anche per semplice emulazione Esatto, quindi può fare del bene Però lui si è posto il problema e dice ma sai oggi nel mondo social vieni criticato su tutto ma davvero ho dato un messaggio positivo, spero che sia arrivato Cioè ma lo diceva veramente perché abbiamo parlato proprio off record e devo dire che è stato strano da trovare anche perché poi quando è uscito dalla Petronas c'erano i ragazzi dell'Italy LH44 che è il suo fans club e siccome aveva l'autista per andare in aeroporto ha fermato l'autista e è sceso, è rimasto mezz'ora a parlare con tutti e qualcuno diceva oh è che dobbiamo prendere l'aereo e lui ha detto beh l'aereo è il mio parte quando dico io no? Esatto, però si è fermato a parlare con tutti, a firmare autografi, a discutere, a chiedere cose cioè in una dimensione tale che normalmente la gente non vede Hamilton così Chiaro, sa anche che in Italia gli conviene muoversi in questo modo qua Ma è proprio così, l'ha fatto anche a Monza dopo i fischi, dopo il podio è tornato, si è buttato in mezzo alla folla Lui è una persona carina comunque Secondo me uno così in Ferrari ci fa diventare matti, ci fa impazzire Sarebbe bello intanto vediamo di concludere questa stagione nella migliore delle maniere Che non è neanche cominciata Che non è meno, esatto, però diciamo che ci abbiamo già lavorato abbastanza sulla Formula 1 quest'anno Mancano ancora 21 Gran Premio, viene veramente già da sudare Arriviamo in Australia che dice basta, non se ne può più Però l'altra cosa che ti vorrei chiedere Paolo è, non abbiamo parlato né dell'Alfa Romeo né della McLaren Direi di partire con l'Alfa Romeo, macchina bella sicuramente Räikkönen come l'hai visto? Io l'ho visto sorridente per la prima volta Sorridente, tranquillo, poi tra l'altro l'hai visto, parlavamo tranquillamente Sì sì, a voglia Quindi problemi non neanche Secondo me si è tolto un peso Che è il peso della politica, delle situazioni difficili Per cui gli danno dei soldi per divertirsi Quindi comunque vada, qualsiasi risultato che riuscirà a ottenere con l'Alfa Romeo Sarà un di più, va tutto bene E questo secondo me le mette nelle condizioni di scioltezza Invece Giovinazzi è in una situazione ideale Ha davanti nella stagione, è tranquillo e sereno Ha un ottimo caposquadra Può assimilare molto, qualsiasi riferimento nei confronti di Räikkönen Gli può essere soltanto utile e positivo Perché se va più forte di Räikkönen, va più forte di un campione del mondo Se dovesse andare più piano, vabbè, sarà anche un nonno Räikkönen Però è sempre uno dei più veloci Quindi a questo punto di vista si trova bene Poi devo dire che il clima della squadra mi è piaciuto molto Con l'ingegner Luca Furbatto Che ha pubblicato un post prima delle prove di Giovinazzi Ha messo Lino Banfi che fa Madonna delle ingoronete E con sottoscritto Oggi Antonio lo vedo bello carico Grandioso Sì esatto, per cui vuol dire che anche il clima della squadra è buono E questo è interessante Poi il passare è bello consistente Tra l'altro Paolo, una cosa che mi ha impressionato Quando siamo stati ospiti dell'Alfa Romeo È che innanzitutto tutte le teste che sono lì dentro Sono estremamente motivate Mi ha dato proprio questa idea di grande compattezza Di grande motivazione Sono tutti lì, non dico per divertirsi Però si divertono Lavorando Lavorando E questo è sicuramente un approccio positivo Per un team che non ha certamente l'ambizione di vincere Però è evidente anche nel disegno della macchina Nello sviluppo della macchina In come ci lavoravano quando erano i box Nella tranquillità di vedere un Raikkonen sorridente Dà l'idea di essere un team che ha voglia di fare bene Non solo Possono arrivare al livello di milaura È la macchina che ha portato più modifiche Più novità in assoluto Vedi E su automoto.it potete trovare il servizio con tutte le novità È la macchina che ne ha di più in assoluto Sì è vero È fatta veramente bene Anche vedendola da vicino Ci hanno anche sgridato Abbiamo fatto le foto troppo vicino Però Ti hanno sgridato A me sì Ero lì proprio a un millimetro dai pezzi Però È stato impressionante vedere come sia ben disegnata Ben costruita Ben realizzata In Sauber le macchine le sanno fare Ma diciamo che questo apporto da parte Della Sì esatto Certo ma vuoi sapere di Letta qual era il problema? Che non riuscivano a togliere la macchina Ad abbassarla dal carrello Perché c'era sotto lui che faceva le foto E allora gli ha detto Amora cosa fai lei? Muoviti Muoviti Perucca Invece di Letta ti faccio chiudere a te Con Science Va bene Sesto posto In realtà la McLaren si è vista in testa McLaren Mi ha sgridato l'altro giorno Mi ha detto McLaren In realtà sì Sai questi vecchietti anni 80 Anni 70 Dicono McLaren Io ho imparato da loro al bar Ok Però McLaren Mi è sembrato a tornare in testa Spesso Probabilmente aveva voglia di farsi notare Anche perché C'è in ballo uno sponsor Abbastanza importante A quanto capito Diciamo i risultati della McLaren Siano dovuti proprio come dicevi tu A questa volontà Di farsi vedere Nelle posizioni alte della classifica E non corrispondano necessariamente A quella che è La Come dire La competitività Della vettura Che comunque Penso non abbia risolto Anche perché sarebbe impossibile Tutti i problemi che aveva lo scorso anno Ecco Quanto meno Ci sono degli indicazioni Positive Per quanto riguarda L'affidabilità Ma dal punto di vista Della competitività Io non credo che si possa posizionare Nella fascia alta Della parte centrale Della classifica Comunque Un team di piloti Buono Sicuramente Sia Sainz Che anche Norris Che è un giovane molto interessante Però devono avere anche la monoposto Per poter competere Paolo Paolo su quel cofano Potrebbe esserci Uno sponsor Bianco Rosso Che ha inventato Babbo Natale Negli anni 30 Beh L'avevano annunciato Però stranamente Non si è visto il maco La Coca Cola L'avevano annunciato La Coca Cola Ma lo spazio Della carrozzeria Che era previsto Se lo spazio Della carrozzeria Era previsto all'origine Ma non l'ho visto Quindi Non so La cosa mi lascia un po' perplesso Perché non è che annunci uno E poi non lo metti da nessuna parte Invece Questo ruolo Di testimonia L'ambasciatore di Alonso Fino al 2020 Infatti Quello chiede Che ha detto In questa fase Non ho voluto interferire Con il lavoro dei piloti Però durante la stagione Magari qualche giro Me lo faccio Ma ci si aspettava Di letta Che qualche giretto Magari sulla McLaren McLaren nuova L'avrebbe fatto O no? Ma C'era questa voce Che girava Ma sicuramente Sarebbe suggestivo Ecco Sarà suggestivo Rivederlo in pista Con una macchina di Formula 1 E secondo me Anche lui comunque Ha voglia Non gli è passato Comunque il virus Ecco C'era ancora Questo stimolo Come per dire Però potrei ancora guidare E' chiaro che poi La situazione negli ultimi anni Si era fatta pesante Lui era frustrato E secondo me Gli farà anche bene Fare un periodo Via della Formula 1 Ma chissà Potrebbe tornarmi Non lo escludo Di sicuro Fino al 2020 E' un pilota McLaren Chiaro Quindi a due anni E' anche Toyota E' riuscito a farsi pagare Quindi è un grande Che mi sembra Già Di questi tempi Farsi pagare Per non fare niente Ci sta Ha il reddito di cittadinanza Esatto Ha il reddito di cittadinanza Della Formula 1 Ma a proposito di bibite Della Red Bull Non diciamo niente No non abbiamo detto niente Infatti bravo Bisogna anche parlare Della Red Bull Brava Diletta Ce la stiamo dimenticando Beh non è un errore da poco Secondo me Prima la Ferrari Sicuramente In queste teste Seconda direi la Mercedes Ma veramente siamo Lì 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 Terza la metterei Un pochino più sotto La Honda Red Bull Paolo ti è piaciuta Non ti è piaciuta Mi è piaciuta Anche perché Adrian New E' presente in pista E' andato a verificare I pezzi A controllare le ali A controllare Altri particolari Quindi come al solito E' una macchina pensata bene Bisogna vedere un po' La cosa che mi ha stupito E' per fortuna Honda che ha fatto Tantissimi chilometri Con tutte le macchine Non ha mai avuto Nessun problema Ma neanche una perdita Idraulica Una perdita d'olio Un qualche Macchina bella Fatta bene La mentalità giapponese Che loro Con McLaren Non si erano sposati bene C'erano dei problemi Dal punto di vista motoristico Evidenti Ma è anche vero Che c'erano dei problemi Dal punto di vista Telaistico In McLaren Erano anche causati Problemi al motore Da come era fatta la macchina Il problema Che secondo la mentalità giapponese Non devi andare lì E dirgli al giapponese Hai sbagliato E lo metti in condizioni Di doversi scusare Perché poi Hanno questo peso Con i giapponesi Devi trattare in modo tale Da dire Secondo il mio punto di vista Forse potremmo migliorare Lei che ne pensa Allora Allora si innesca Allora si innesca La reazione Ma se gli dici No avete sbagliato Il motore non va niente GP2 engine Come disse qualcuno Fernando Chiusa parentesi A Suzuka Sono di quelle Stilettate A casa loro Come direbbe qualcun altro Sono di quelle stilettate Che rimangono dentro E questo porta A una difficoltà Di relazione Con la mentalità giapponese Alla Toro Rosso Si sono trovati Di fronte A un team Che si è messo Completamente a disposizione Quando loro chiedevano Questi rispondevano E quando il team Chiedeva Onda ha risposto E questo è stato Propedeutico All'inserimento In Red Bull Dopo un anno di rodaggio Alla Toro Esatto Non era più La mentalità Della McLaren Onda dei tempi Di Senna E di Ron Dennis Che avevano capito Perfettamente Questa filosofia E naturalmente I risultati Io me li aspetto Perché dopo 5 anni Onda Se fallisce Anche quest'anno Li vedremo tutti quanti Sul ponte La CanSai Tutti quanti a fare Arachiri Arachiri Che poi non si dice Arachiri Ma Nippu Tipu Non mi ricordo più Com'è Tu sei un po' di giapponese Ma adesso Diletta invece Perché il primo motore Lo chiamavano Sono uscito Una cacata Che è un classico Non sul motore Forse era un ingegnere E anche finlandese Diletta invece Non abbiamo parlato Nemmeno della Renault O forse ne abbiamo parlato Però vorrei ritornarci un attimo Potrebbe essere la quarta forza Del mondiale o no? Potrebbe Anche perché hanno un ottimo pilota Diciamocelo Ma hanno due ottimi piloti Ultimo pilota Ulkenberg Ulkenberg Ricciardo Non è che qua ci dimentichiamo di Ulkenberg Ma il sia Ricciardo è un filino di più Sì questo direi Direi di sì Però Ulkenberg Mi tocca a dirsi A parte queste facezze Si tratta sicuramente di una coppia Di piloti di grande esperienza Perché comunque hanno 29-31 anni E Ricciardo ha vinto anche delle gare Per cui ci voleva sicuramente Un pilota in grado di portare la Renault A un altro step più avanti Perché comunque il loro obiettivo È quello di vincere il mondiale Giusto Paolo? Tra qualche anno Non molti Spero di essere ancora con voi Addirittura Quando siamo andati a parlare con Prosto Cosa ti ha detto? Niente Quasi va che ti dica Non sa manco lui No Tra l'altro è rimasto stupito Dai colori di Autovondo.it È vero Siamo uguali a loro È vero Siamo uguali a loro Per cui quando ha visto Fa Ah ma vedo i colori Esatto Comunque non c'è una prima guida Vero di Letta Dentro la Renault Almeno de facto Tutti i due buoni De facto Smettila De facto Non credo ci sia A parte gli scherzi Una prima guida Almeno al momento Però probabilmente Ricciardo Si imporrà Poi con il risultato Vedremo Vorrei concludere Velocemente Paolo Il format della Formula 1 È cambiato Per quanto riguarda Diciamo non format Ma sono cambiate Le regole tecniche Delle Formula 1 Nessun pilota ha detto Che questa ala allargata Migliora la confidence O comunque la tenuta di strada Della vettura Assolutamente Il problema in sci È rimasto uguale È rimasto identico Quindi praticamente Questo vantaggio 15 milioni di euro Buttati via per niente Esatto Quindi va benissimo Invece per quanto riguarda Il format È cambiato qualcosa Da parte del weekend di gara O è esattamente identico L'anno scorso Se ne sta ancora discutendo Per cui Però non ci sono particolari Novità Legate a metodologie di prove Forma di gara Orari Se ne era parlato Tutto il resto Però visto gli orari Bene o male Sono sempre lì Si parte sempre A più 10 Rispetto all'ora esatta Più o meno Tutte le gare europee Sono alle 15.10 Ok Sì E quindi Più o meno La cosa rimane Invariata Rispetto allo scorso anno Invece c'è un piccolo Particolare Vai Bottas Che ha trascorso una notte A letto con un altro pilota Ma in che senso Che stai dicendo È venuto fuori Proprio a Santana Alla presentazione Proprio per chiudere il gossip C'è il pilota Che è il più odiato di tutti In Formula 1 E chi è? Grojan Magnussen 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 che è il pilota più odiato E beh Bottas ha svelato Che l'anno scorso Per andare Da Gran Premio all'altro Avevano preso un aereo privato Per andare in Giappone E gli è capitato Di dormire a letto Con Magnussen Ed erano lì a cucchiaio Vicini vicini Ma come a cucchiaio? È stata un'esperienza Indimenticabile Ah esperienza Dimenticabile D'altro botta Sala Barba Che è proprio cambiato Forse un'esperienza Che l'ha cambiato Tanto Da spingerlo Profondamente Da spingerlo Anche a un cambio di look Ecco Molto bene Dopo questa Diciamo perla Del cic Bene Grazie Paolo Speriamo che durante la stagione Ci possa regalare Ancora momenti È difficile Momenti eroici Come questo Direi che è arrivato il momento Di chiudere questo Pre GP Dopo GP F1 2019 Insomma Trovate di voi un nome Per l'anno prossimo Vi aspettiamo con la puntata Di Dopo GP F1 Invece 2019 17 di Marzo Marzo C'è la gara Quindi diciamo Il 18 Potrebbe uscire Potrebbe uscire Verso il 18 19 Insomma Verso quei giorni Poi ve lo faremo sapere Direttamente sul sito Con questo è tutto Direi che non ci rimane Che salutarvi Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti